Attenzione alle truffe, Publiacqua ribadisce che sono i malfattori che chiedono e purtroppo a volte riescono ad entrare nelle case degli utenti. Le scuse sono molteplici, dal controllo sull'acqua inquinata alla verifica di una perdita sul contatore. Le segnalazioni sono in aumento e si verificano soprattutto nel periodo estivo. Nel tempo abbiamo registrato anche un aumento quantitativo, a volte ci sono stati anche fenomeni particolarmente brutali e ferati, quindi su questo ci siamo allarmati di più e abbiamo ritenuto che per la natura della nostra società, ma non solo, diciamo che per il buon senso, dovessimo essere maggiormente presenti. Più vulnerabili le persone anziane. Vorremmo essere vicini, manifestare la nostra presenza ed essere molto chiari sul fatto che noi non entriamo in casa e che quindi di stare attenti a tutti i criminali che possano approfittare di questa situazione. La campagna informativa di prevenzione è stata realizzata insieme alle amministrazioni comunali e alla polizia. È giusto ed è doveroso. Le truffe agli anziani sono un fenomeno, un reato odioso che dobbiamo contrastare con ogni mezzo a disposizione. Oltre all'inconsapevolezza, a volte, ad aiutare i malviventi a farla franca e la vergogna delle persone truffate, Publiacqua rinnova il proprio invito a denunciare ogni comportamento sospetto.